Proseguono gli incontri e prosegue l'iter burocratico per aprire un McDonald's a Teramo. Sì esatto, in questi mesi si è lavorato in maniera anche importante sia a livello di uffici sia con tutti i soggetti coinvolti, in particolar modo con la costruttoria Teramani. È un lavoro costante, rapido, che già vedrà probabilmente nelle prossime settimane anche un confronto sui tavoli che poi dovranno decidere, che sono le commissioni e chiaramente anche poi in consiglio comunale. Diciamo che tutti i problemi a livello amministrativo e tutti i problemi tecnici si stanno piano piano superando e quindi ad oggi c'è una buona possibilità che nei prossimi giorni, nelle prossime settimane si passi alla parte amministrativa. quindi siamo già in un buono stato di avanzamento dei lavori. Vogliamo ricordare dove aprirebbe McDonald's? Sì, la McDonald's è interessata ad aprire nel piano a raso del parcheggio San Francesco, quindi è un parcheggio che giustamente è regolato da una convenzione e quindi questo è il tema amministrativo, cioè l'aspetto burocratico da superare. Il Consiglio Comunale deve riapprovare una convenzione che avrà un nuovo piano economico finanziario perché chiaramente c'è un investimento nuovo da parte del soggetto gestore. Quindi io adesso non mi voglio sbilanciare perché poi sbilanciarsi quando ci sono ancora delle procedure amministrative che avete a svolgere non è nel mio costume, però siamo tutti abbastanza fiduciosi perché il lavoro fatto fino ad oggi ci fa ben pensare, ci fa ben pensare sulla rapidità anche delle procedure.